Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom e benvenuti a questo nuovo video. Come potete vedere non siamo all'interno di un videogioco ma siamo sul mio desktop perché questo è un video aggiornamenti. Allora, vi volevo dire che vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando per le visualizzazioni, per i mi piace e per le iscrizioni. Il canale sta procedendo bene, però c'è una cosa che non va. Tranquilli, non è colpa vostra, è colpa mia. Mi sto concentrando solo su due serie. Diciamoci la verità, solo su una principalmente. Ovvero la serie delle armi di Fallout 4, delle armi uniche. Questo poiché mi richiede poco tempo e non ci metto niente a fare quei video perché appunto durano un paio di minuti, dall'1 ai 3 minuti e l'unico sbattimento che devo fare è scriverci sopra. Anche se volevo cambiare la tipologia di quei video, ovvero non scrivendoci più sopra ma appunto registrando la mia voce perché... Allora, vi spiego. Qua ho tre video di Fallout pronti, delle armi uniche. Soltanto che sono vergini, ovvero non sono scritti sopra. Per scriverci sopra dovrei usare AWS Video Editor, però importando il video da qua ad AWS e scrivendoci sopra perde qualità. Quindi sarebbe meglio appunto registrare la mia voce in modo da portarvi la massima qualità. E stavo dicendo, mi sto concentrando solo su quella serie in pratica, tralasciando... Cioè, trascurando Amnesia. Che come vedete qua ho pronto l'episodio 9 ma non l'ho ancora caricato. Faccio vedere una cosa. Allora, questa è la mia cartella di YouTube intanto. Video YouTube. Piccolo spoiler, video su Amnesia Machine 4 Pix. Di Amnesia The Dark Decent. Ho tutti gli episodi pronti. La serie è finita in pratica. Guardate, allora, vediamo proprietà. Questo episodio è pronto da domenica 10 gennaio. Me ne rendete conto da gennaio. Non ho ancora finito la serie. Non ho ancora caricato la serie, però è finita. Amnesia è finito. Questo perché, diciamo, che non ho tantissimo tempo. Ho avuto anche problemi con internet, quindi... Mi potete capire un po'. Però è anche colpa mia che sto trascurando Amnesia. Sto caricando solo Fallout quando mi capita. E qui ci sarà una svolta. Il mio canale è incentrato sugli horror. C'è scritto anche nella descrizione del canale. Quindi vorrei cominciare a fare più horror. Vorrei aumentare il numero di video. Ovvero, continuerò Amnesia e Fallout. Ma inizierò una nuova serie che vedrete probabilmente domani. Oggi è 7. La vedrete all'8. Vedrete il primo episodio di Dead Space. Vorrei fare la trilogia di Dead Space. Poi fatemi sapere se vi aggrada la cosa. Perché a me davvero mi piace molto come saga. E vorrei portarvela sul canale. Quindi, niente. Vi volevo solo dire che il canale cambierà. Aumentando la frequenza di video. Perché vorrei portare due video al giorno. Cioè non mi costa niente mettere a caricare due video di notte. Per poi averli pronti lì in mani mattina caricati. Quindi vorrei aumentare i video. Vorrei anche variare nei video. Cioè non vorrei portarvi solo Dead Space, Fallout e Amnesia. Vorrei portarvi altri video come, non lo so, Call of Duty Black Ops 3, che ho portato un solo video. E ho portato quelli di The Rise and Dragon, ma diciamo erano tutorial così buttati là a caso per fare un po' di visual. Diciamoci la verità. Vorrei portarvi zombie. Perché questo mese su PlayStation Plus c'è zombie. Gratis. Ovvero il porting per PS4 di Zombie U. Quindi, allora. I miei obiettivi adesso sono concludere Amnesia. Portarvi Dead Space. Il primo capitolo. E portarvi zombie. Poi ogni tanto tranquilli usciranno anche i video di Fallout. Che come potete vedere qua ne ho tre pronti. Quindi state tranquilli. Quindi ragazzi, questo era un piccolo video aggiornamento. E niente. Grazie per tutto il supporto. E restate connessi al canale.